Benvenuti in questo nuovo video! Allora, finalmente il fantastico video di 50 iscritti infatti sono qui sommersa da tutta la mia roba della moto questo era un video su richiesta che non so, mi ricordo chi me l'aveva chiesto mi aveva chiesto di fare un video con tutto corrente tutto quello che uso per andare in moto quindi io l'ho trovata stra interessante e ho accettato di farlo come video per 50 iscritti diciamo come speciale e ci sono arrivata finalmente a 52 tra cui uno si è iscritto mio papà all'ultimo che bella cosa e adesso vi farò vedere tutto il mio corrente quindi grazie per i 52 iscritti e sì, ormai io faccio tutti i video in pigiamone con la luce dietro, con la luce nella telecamera tutto, ma chi se ne importa e buon video! qui c'è la mia giacca estiva dell'AXO e qui dentro c'è il bagaglio, il keyway ecco non mi veniva il nome, per l'acqua dentro qui ci va il paraschia non so come stavano a chiamarlo e qui c'è la cerniera in cui si mette il keyway poi è una giacca con tutte le protezioni questo keyway è una cosa bellissima sì, è un altro keyway è bellissimo ti vedono da stare, non lo so, a chilometri e chilometri e a me sta tipo enorme perché è di mio papà ma è una figata assurda perché è retro-retiltente ci sono qua delle robe retro-retiltenti poi ti vedono da lontano e li riparan faccolaria ciao 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 se ve lo state chiedendo no, non ho una giacca invernale perché alla fine d'inverno uso semplicemente una giacca a vento o una giacca ad asciare e le scarpe non ho nemmeno quelle quindi in breve spero di non aver dimenticato niente se mai avessi dimenticato qualcosa ve lo riporto nei prossimi video e spero di essere stata abbastanza chiara il video sì, non è lunghissimo anche se ero uno speciale spero che vi sia piaciuto di aver soddisfatto ogni vostro dubbio e poi vabbè c'è la moto e non so non ho nient'altro non credo di avere nient'altro quindi ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per i 52 iscritti e grazie a tutti grazie a tutti